Buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione locale in studio Roberto Bonfantini. Vediamo i titoli principali di oggi, giovedì 20 marzo. Diffuso dei carabinieri l'identikit di Pauline Nikai, il 35enne albanese ricercato per l'omicidio di Nimet Ziberia Misano. Consiglio cumulale di Rimini, oggi la maggioranza resterà in aula e garantirà il numero legale per discutere di turismo e palacongressi. Bolletta dell'acqua da 22.000 euro, la famiglia riminese non dovrà pagarla, ha infatti vinto la causa contro ERA. A 20 anni dall'omicidio in Somalia di Ilaria Alpi e Miran Rovatin, la presidente della Camera Boldrini ha richiesto la desecretazione dei documenti relativi all'inchiesta. Per me Per me Per me Specialmente per me Al Caffati ti accogliamo con cordialità e ci occupiamo con cura e competenza delle questioni fiscali della tua famiglia. Ancora ben trovati, i carabinieri hanno diffuso la foto di Pauline Nikai, 35enne albanese ricercato perché ritenuto colpevole dell'omicidio di Nimet Ziberi, ucciso lunedì mattina a colpi di pistona nel parcheggio del supermercato Conad Rioagina di Misano. Alto 1,77 m, stempiato, Nikai potrebbe avere ancora in uso una Citroën C4 di colore blu, targata di P767VT. Potrebbe essere ancora armato, ricordano i carabinieri. Chi lo dovesse vedere, o può averlo visto, è invitato a chiamare il 112. Nikai nei giorni scorsi avrebbe chiesto aiuto per la fuga a dei parenti e conoscenti, ma questi avrebbero rifiutato di fornirgli riparo e appoggio. Oggi la maggioranza in Consiglio Comunale a Rimini resterà in aula e garantirà il numero legale per discutere di turismo e palacongressi. Non si tratta però di un cambio di strategia rispetto alla settimana scorsa. A spiegarlo alla stampa, poco prima della seduta, Agosto e Morolli del PD, insieme a Galvani della Federazione della Sinistra e a Dastolfi di Rimini per Rimini. Nessuna marcia indietro rispetto alla settimana scorsa, ma la volontà di evitare uno stallo che non farebbe bene a nessuno. Tradotto, la maggioranza questa sera resterà in Consiglio a Rimini fino alla fine. E non, spiega con qualche tecnicismo Galvani, perché per il tematico sul palacongressi si tratti di una seconda convocazione, visto che la richiesta era stata ripresentata dopo la seduta saltata. Da PD, Federazione della Sinistra e Rimini per Rimini, arriva però una stoccata alla minoranza. Il numero legale è responsabilità di tutti. E ancora, i consigli tematici non devono essere strumento di campagna elettorale. Riprendiamo il dialogo, dicono, ma se così non fosse abbiamo i mezzi per fare abbraccio di ferro. Il cappagruppo del PD, Agosto, va poi nel dettaglio di alcuni degli ordini del giorno presentati oggi, definiti risibili o oggetto di azioni già in corso da parte dell'amministrazione. Dalla adunata degli alpini ai matrimoni sulla spiaggia, passando per la Coppa Italia di basket e gli esami per avvocati. L'auspicio è che molti di questi, per la maggior parte presentati dal consigliere Brunori, sempre più separato in casa, in maggioranza, vengano ritirati. Parlare di turismo, rivendica Agosta, non è questo, ma ricordare ad esempio l'impegno messo in campo dal comune per salvare l'aeroporto. Da Mosca il sindaco Gnassi ha annunciato oggi, spiega il capogruppo PD, che da quest'anno al Fellini si aggiungono altre cinque destinazioni dalla Russia, oltre alle dodici già presenti. Si parla di mezzo milione di passeggeri e di ossigeno per l'indotto turistico del territorio. 22.000 euro di bolletta dell'acqua, che fortunatamente una famiglia riminese non dovrà pagare. Ha vinto infatti una causa partita nel 2009 contro Era. Per la Multi Utility arrivano anche novità sul ricorso di 86 cittadini riminesi che avevano chiesto il rimborso dell'IVA pagata sulla TIA. Una bolletta dell'acqua da 22.000 euro farebbe sobbalzare sulla sedia chiunque, e così è stato nel 2009 per una famiglia riminese che se l'è vista recapitare da Era. Colpa della rottura di una tubatura non visibile in giardino. Peccato che il fondo fughe copra solo fino a 6.000 euro. La famiglia ha cercato di risolvere la questione in via stragiudiziale, ma riuscendo ad ottenere uno sconto di 11.000 euro. Davanti al giudice Era ha abbassato la sua richiesta a 6.000, ma la famiglia assistita dall'avvocato Baglietta è andata avanti e il giudice le ha dato ragione. Nel momento in cui il giudice dice questa famiglia gli è stato fatturato in un anno quello che avrebbe fatturato in 102 anni, c'è qualcosa che non va. Il mio cliente si era accorto di questo consumo anomalo perché il letturista di Era nel mese di luglio gli aveva detto guardate che la prossima bolletta sarà a credito. Il mese dopo la bolletta non era a credito e dal di lì sono iniziati i problemi. In questa causa si è portata avanti la tesi secondo la quale Era nella modulistica che manda a casa non informa correttamente il cittadino delle autoletture che può fare perché Era si difendeva dicendo che il privato può controllare leggendosi da solo il condottore. Il giudice ha fatto la sentenza secondo la quale la condotta di Era non è secondo buona fede nel momento in cui allo stato della tecnica attuale non adotta dei contatori in grado di rilevare in automatico dei consumi anomali. Era non ha presentato ricorso e la sentenza unica in Italia potrebbe fornire un precedente importante per questioni analoghe. Un'altra notizia tocca poi da vicino la Multi Utility. Il Tribunale di Rimini ha infatti confermato la propria competenza in merito al ricorso di 86 cittadini che assistiti dall'avvocato Gorini hanno chiesto il rimborso dell'IVA sulla tariffa igiene ambientale. Questione nota da tempo. Era aveva chiesto che se ne occupasse invece direttamente la commissione tributaria. La prossima udienza sarà il 28 maggio. Come si temeva ieri sera in concomitanza con la chiusura di via Coletti e l'inaugurazione di NADA alla Fiera di Rimini, la concomitanza ha mandato in tilt il traffico. Dalle 18 ore di uscita dagli uffici di chiusura di padiglioni fieristici fino alle 19.30 si sono formate lunghe code a San Giuliano che cominciavano dal centro storico. Nell'altra direzione, con la corsia chiusa sull'Adriatica per i lavori dell'ANAS, il serpentone di auto partiva dalla Mare Chiese. Proprio per cercare di decongestionare il traffico, il comune ha deciso in via sperimentale di sospendere dalle 16 alle 18 il divieto di transito su corso Giovanni XXIII, controllato da telecamera. Una soluzione sperimentale fino al 5 aprile adottata, spiega il comandante della Polizia Municipale Talenti, anche in seguito ai suggerimenti arrivati dai cittadini. La sospensione del divieto di transito sarà segnalata dal display posto sul varco d'accesso alla ZTL di Piazza Ferrari. Nessun commento da parte della Giunta, ma fanno comunque discutere le sollecitazioni arrivate da Confindustria Rimini, che ha puntato il dito contro PSC, Piano Strategico e Masterplan a bloccare il settore urbanistico. Samuele Zerbini, consigliere del PD, si ischiera con l'associazione. Delle promesse di una nuova fase dell'urbanistica arrivate in campagna elettorale, spiega ci si è limitati allo stop al consumo del territorio, ma è mancato l'aspetto legato alle ristrutturazioni e ai progetti innovativi di edilizia di qualità. Non si può andare avanti con due piani confliggenti, prosegue Zerbini, perché si blocca la città. Lombardi di Forza Italia rincara la dose. Le scelte dell'amministrazione di centro-sinistra, dice, sarebbero costate a Rimini un miliardo di euro. A che accuse il piano strategico di scarsa concretezza, Maurizio Ermeti, presidente del forum Rimini Venture, ha risposto oggi nella nostra trasmissione Tempo Reale. Intanto quella della comunicazione così low profile è una scelta, nel senso che oggi si comunica soltanto per slogan e per toni di voce alti. Abbiamo scelto di lavorare sostanzialmente senza... poiché abbiamo relazione poi con tutte le organizzazioni che fanno parte del nostro lavoro e quindi il mondo, diciamo, che opera intorno al lavoro del piano strategico e a conoscenza delle attività che stiamo facendo. In realtà però c'è stato un salto importante, nel senso che dal marzo del 2013 si è costituita, come costola del forum del piano, si è costituita un'agenzia operativa che si è dato il compito in realtà di attuare il piano strategico. Perché oggi di fatto l'attività del piano strategico è ancora aperta, i laboratori, l'incontro, l'ideazione, l'innovazione del pensiero e la revisione naturalmente di linee guida che sono state magari pensate in momenti che potevano essere diversi da quello attuale. Però contemporaneamente c'è una frenetica attività a fianco dell'amministrazione comunale, di quella provinciale. Da qualche mese stiamo facendo il lavoro del piano strategico e del contratto di fiume su tutta la Val Marecchia. Anche questo passa forse un po' troppo sotterra, ma è un lavoro che credo nella nostra Val non sia mai stato fatto da nessuno. Cioè far parlare gli sticori della Val Marecchia e trovare una linea di comportamento unica che valorizzi quel territorio, come si è detto fino adesso. Lo stiamo facendo noi. E diciamo a piccole gocce ogni volta che questi risultati sono pronti per essere comunicati perché ciò di cui ci occupiamo sono cose complesse. Non è che sono facili da mettere in campo, occorre spesso molto tempo, ma quando arrivano sono in grado, credo, di cambiare veramente il segno nella nostra città. Il pensiero ha bisogno di tempo. Proprio il piano strategico nell'ambito di Wizzar presenta la prima edizione di Welcoming Cities, piano integrato dell'accoglienza. Domani, dalle 14.15 al Palace, ci sarà il seminario Tenera e la Notte. La Notte Accogliente moltiplica le esperienze, dove si approfondiranno le tematiche relative all'organizzazione degli aspetti che influenzano il mondo della notte. Sabato, dalle 9, invece, si parlerà della realtà aumentata, dispositivi e tecniche per aumentare l'accoglienza dei luoghi, workshop dedicato ad informazione turistica e nuove tecnologie. 20 anni fa, Ilaria Alpi e Miran Rovatin venivano uccisi in Somalia. La denuncia della giornalista del TG3 contro pesti dello Stato per i traffici illeciti di rifiuti e armi dall'Italia alla Somalia oggi risuonano i palazzi del potere. Durante la commemorazione di ieri alla Camera la Presidente Laura Boldrini ha annunciato l'avvio delle procedure per chiedere la desecretazione dei documenti relativi all'inchiesta. Un passo avanti importante raggiunto anche grazie all'attività dell'Associazione Ilaria Alpi di Riccione che da 20 anni, insieme alla famiglia della giornalista assassinata, cerca la verità. Dopo 20 anni si intravedono alcuni contorni ma sono sfocati. È una storia all'italiana in cui scompagno agende, tacquini e in questo caso anche le registrazioni quella di Ilaria Alpi e Miran Rovatin uccisi a Mogadiscio mentre facevano il loro mestiere cercare la verità. Avevano trascorso alcuni giorni a Bosaso e sulla strada nel deserto quella costruita fra l'86 e l'89 dalla cooperazione italiana che per la Somalia aveva speso 1.400 miliardi di lire. Dove sono finiti quei soldi? È uno dei tanti misteri. Il potere di desecretare i documenti dell'inchiesta ce l'hanno i servizi segreti che hanno come ultimo responsabile il capo del governo. Dunque l'appello oggi venne rivolto al premier Matteo Renzi e a Laura Boldrini che si è fatta promotrice di questa richiesta presso la presidenza del Consiglio. L'impegno è stato assunto davanti a Luciana Alpi la mamma di Ilaria. Un ruolo importante in questi anni è stato ricoperto dal premio Ilaria Alpi di Riccione che nel nome di Ilaria e Miran ha portato avanti tenacemente insieme ai genitori della giornalista la battaglia per la verità. La ventesima edizione si terrà dal 4 al 7 settembre. Francesco Cavalli uno degli ideatori del premio giornalistico è da ieri in libreria con il romanzo La strada di Ilaria. Mi viene da dire forse più nello specifico soprattutto pensando a Ilaria al lavoro che faceva e a quello che noi abbiamo fatto nascere in sua memoria come premio di giornalismo che non è solamente un farne un santino farne un'icona ma è quello di valorizzare chi è che fa questo mestiere in un certo modo. E noi abbiamo anche in prima persona scelto di continuare di fare un pezzo di quella strada che lei aveva fatto professionalmente andando a cercare quello che potevano essere semi, germi di una verità che ancora non è emersa e ancora non è venuta fuori rispetto al motivo per il quale Ilaria insieme a Miran Rovatin sono stati assassinati il 20 marzo del 94 in Somalia. L'intervista a Francesco Cavalli è stata realizzata da Franz Ramberti e stasera su Rai 3 l'anniversario sarà celebrato in prima serata con la trasmissione condotta da Andrea Vianello intitolata La strada della verità. All'aeroporto militare di Rimini è stata inaugurata ufficialmente questa mattina la nuova sede della sezione aerea della Guardia di Finanza nel 40esimo anniversario della Fondazione una sede più funzionale per una sezione attiva su un vasto territorio e su un'ampia serie di fronti. Già da tre anni i 25 uomini della sezione aerea delle Fiamme Gialle di Rimini usavano i nuovi locali da oggi con l'intitolazione al maresciallo Antonio Farinatti vittima delle foibe nel 43 per aver assolto il suo dovere e medaglia d'oro al valore civile la nuova sede è ufficialmente operativa insieme al nuovo hangar sono 25 gli uomini in servizio al reparto attivo sul territorio delle miliaromagne e parte delle marche nonché sulle relative acque nazionali e internazionali. questa nuova sede è molto più vivibile della precedente e anche tecnicamente possiamo angarare più elicotteri avere più mezzi molto più moderna prima eravamo in angara vecchi di più di 50 anni l'attività principale rimane comunque l'esplorazione sul mare finalizzata al contrasto di traffici illeciti di varia natura stupefacenti antimigrazione contrabbando sul territorio invece si stanno sviluppando molto le attività in materia ambientale in particolare non solo nel territorio riminese ma anche nel territorio delle altre province in particolare della Romagna ma anche delle marche i risultati che si pubblicizzano in media sono solo la punta di diamante di tantissimi altri controlli che vengono fatti di monitoraggio sostanzialmente di tutta l'area di competenza ci sono queste situazioni particolari a cui si pone più attenzione fino a trovare delle situazioni come è capitato anche recentemente di inquinamenti abbastanza gravi sul territorio ancorché l'Emilia-Romagna sia una regione molto all'avanguardia in questo senso le nostre notizie in 100 secondi nel 2013 il parco autocircolante in provincia di Rimini è sceso di 1610 unità il risultato peggiore a livello regionale è sancito dai dati dell'ACI le prime iscrizioni nel riminese sono state 5948 a fronte di 7558 radiazioni in Italia il parco circolante è diminuito di 98.868 veicoli nel primo pomeriggio a Morciano si è verificata la rottura della condotta idrica che alimenta il serbatoio i tecnici di ERA sono al lavoro per ripararla i lavori si protrarranno fino a sera tre autobotti saranno collocate in punti diversi del paese per limitare il disagio alla cittadinanza ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato in via Bassi un 37enne a bordo della sua auto con 26 grammi di cocaina confezionate pronte allo spaccio l'uomo panettiere pregiudicato è di Fano domiciliato in provincia di Pesaro è stato condannato a 8 mesi da scontare i domiciliari ieri intorno alle 13 due giovani rumeni in un negozio di occhiali in centro storico a Rimini si sono avvicinati a un espositore nascondendo un paio di occhiali da sole tra i vestiti scoperti dal proprietario sono usciti in strada e dopo aver lanciato la refurtiva su un'auto sono scappati indaga la polizia alle 10.30 sentendo dei rumori ha guardato dallo spioncino e ha visto una donna tentare di forzare la serratura di casa sua in via Ballilla ha chiamato i carabinieri che hanno accertato che probabilmente una zingara aveva tentato di entrare forzando la serratura la ladra è ricercata in base alla descrizione fornita dalla signora il documentario Romagna Nostra le mafie sbarcano in riviera realizzata dal GAP più la torre di Rimini sarà proiettato domani a Palazzo San Macuto della Camera dei Deputati è anche finalista del Rome Independent Film Festival nella sezione National Documentary Competition la premiazione finale sarà il 25 marzo dopo alcuni problemi iniziali arrivano i primi risultati per il sabbiodotto di Riccione l'impianto nei giorni scorsi ha cominciato a trasportare la sabbia dragata all'imboccatura del porto consentendo il ripascimento al confine con Misano a guardarlo uscire verrebbe da dire ecco il petrolio della riviera in effetti si tratta della sabbia pompata dal sabbiodotto di Riccione necessaria per gestire il problema erosione il via ai lavori al confine con Misano in sole 6 ore effettive di lavoro ripascimento effettuato su un'area di circa 60 metri con la messa a regime dell'impianto la densità della miscela di acqua e sabbia è stata gradualmente portata fino al limite massimo del 17% il livello che assicura il massimo risultato in quantità di sabbia trasportata un'infrastruttura unica nel suo genere ed interamente finanziata dalla regione capace di pompare la sabbia in esubero dal porto canale quindi sabbia di qualità con una condotta che corre sotto la spiaggia per 3.300 metri una struttura un'infrastruttura che funziona che già dà dei risultati ottimi dal punto di vista non tanto e solo della riduzione dei tempi ma soprattutto della qualità alle spalle vediamo insomma già i primi 6 ore di lavoro oltre 600 metri cubi di sabbia ma soprattutto la compattezza e la solidità insomma di un materiale che difficilmente insomma viene asportato e quindi questo dà una possibilità di garantire appunto tutta la la stagione estiva e dall'altro insomma la risoluzione anche del porto e dell'imboccatura ecco abbiamo messo insieme due elementi fondamentali sui quali c'era un grande scetticismo ma oggi devo dire anche parlando con gli operatori si riscontra una soddisfazione per un intervento che ha centrato l'obiettivo e che ci darà appunto una maggiore qualità anche sul piano ambientale e dall'altra parte quella gestione di cui ho sempre parlato questo non è un problema che si risolve è un problema che bisogna gestire e lo si deve gestire con intelligenza e soprattutto con una grande attenzione all'ambiente in tanti partiranno anche da Rimini domani per partecipare alla Via Crucis organizzata dalla comunità Papa Giovanni XXIII per dire basta alla schiavitù della prostituzione un corteo a cui anche Papa Francesco nell'Angelus di domenica ha invitato a partecipare un grido d'aiuto che troppo spesso resta senza voce quello delle migliaia di ragazze costrette a prostituirsi sulle strade italiane un'ingiustizia che non può essere più taciuta e questa è la certezza che porta nel cuore di Roma la Via Crucis della comunità Papa Giovanni XXIII in corteo ci saranno anche tante ragazze che nelle case famiglia della comunità hanno riconquistato dignità e libertà 7000 le donne salvate 400 oggi sono accolte dall'associazione fondata da Donoreste Benzi noi non possiamo più tacere come diceva Donoreste Benzi allora abbiamo voluto marciare nel cuore di Roma e anche con il sostegno questa carezza che il Santo Padre ci ha dato invitando tutti alla marcia perché vogliamo che la dignità della donna sia difesa fino in fondo per dire la bellezza della meraviglia che la donna nella società che la mia madre non può fare che ha fatto per me volevo scappare perché non mi piaceva fare quel lavoro perché io dentro di me stavo molto male non mi sentivo come una persona libera avevo paura veramente mi potevano ammazzare quando mi ricordo cosa è passato mi viene da piangere tante persone mi hanno dato botte mi sento male adesso non voglio basta lottare insieme a tutte le istituzioni le forze sane della società contro il racket e soprattutto dire ai clienti che non possono più continuare questo massacro di queste bambine e di queste donne è possibile lavorando tutti insieme arrivare a rimuovere questo fenomeno che è la più grande ingiustizia del mondo non il lavoro più antico del mondo è la più grande ingiustizia del mondo un'ampia intervista a Giovanni Paolo Ramonda sarà trasmessa domani sera a partire dalle 21.10 su Icaro TV nell'appuntamento dei giorni della chiesa in chiusura vi ricordo che ci trovate anche su Radio Icaro sul sito newsrimini.it a tutti l'auguro di una buona serata